Ad Andria, in Contrada Coppe, la scorsa serata, i carabinieri della locale compagnia, a conclusione di un milato servizio antidroga, hanno sorpreso due noti pregiudicati mentre si stavano prendendo cura di alcune piante di marijuana appositamente interrate nell'orto di un'abitazione rurale. I due pregiudicati, uno di 22 anni, proprietario dell'immobile e un altro, 34enne, entrambi del luogo, già noti alle forze dell'ordine, sono stati così tratti in arresto dai militari per coltivazione di sostanze stupefacenti e ricettazione. In particolare, oltre al rinvenimento di cinque piante di marijuana dell'altezza di oltre un metro cada una, pronte per l'essicamento e la commercializzazione su piazza, sono state rinvenute anche due autovetture, provento di furto, sottratte ad Andre Trani nei giorni scorsi, nonché della strumentazione medica veterinaria dei medicinali, che sono risultati appartenere ad un professionista, proprietario di una delle due auto rubate. Tutto il materiale recuperato è stato restituito agli aventi diritto, mentre le piante di marijuana, sottoposte a sequestro, sono state inviate presso il laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Bari per la quantificazione del loro principio attivo. I due arrestati, su disposizione della procura di Trani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.